Personalizzato e differenziato di recupero per Coutinho e Joel Obi per il centrocampista, anche tecnica con il pallone. Seguito il lavoro di recupero individuale, il resto della squadra si è diviso in due gruppi. Un primo, composto da chi ha giocato maggiormente Angelo Mario Moratti. L'allenamento si è aperto, quindi rientra un hotel per cena. Moratti, che ha ricevuto una targa ricordo dai rappresentanti della polisportiva dell'esercito proprietaria del centro d'allenamento utilizzato da Nerazzurri, ha salutato Benitez e i calciatori all'armi pitch e quindi si è recato alla cena ufficiale organizzata dalla FIFA, accompagnato da sua moglie Milli Moratti e da Bedi Moratti, sua sorella Luis Figo, e dall'amministratore delegato, dottor Ernesto Polillo. Ho fatto anche con il pallone, poi qualche esercizio relativo al possesso di palla e il tutto...